La Polizia Postale di Pescara ha condotto l'operazione denominata Poison, coordinata dalla Procura per i minorenni dell'Aquila, per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico che ha portato all'identificazione e alla denuncia di sette minori. L'indagine trae origine da una segnalazione del Servizio Emergenza Infanzia 114 relativa alla condivisione su gruppi social, oltre che di contenuti pedopornografici, anche di stickers, meme di carattere zoofilo, necrofilo, splatter, nonché di violenza estrema, apologia del nazismo e fascismo, atti sessuali estremi e mutilazioni, atti di crudeltà verso esseri umani e animali, immagini e video raccapriccianti di vittime innocenti il cui dolore invece di scuotere le coscienze è stato oggetto di scherno, divertimento e condivisione da parte del gruppo di adolescenti. Gli investigatori della Polizia Postale hanno analizzato oltre 85 mila messaggi in cinque diversi gruppi social. I presunti autori sono di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tra cui una ragazza ritenuti responsabili di aver ricevuto e inviato su diversi gruppi social diverse immagini di bimbi, anche di 3 o 4 anni, vittime di abusi sessuali. Restano tuttora al vaglio degli inquirenti le posizioni di ulteriori 22 minori che si sono limitati all'invio dei meme per possibili provvedimenti a protezione degli stessi, con l'intervento dei servizi sociali a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie. L'operazione di oggi, in italiano veleno, spiegano gli investigatori, ha confermato un fenomeno dilagante tra i giovanissimi, quali spesso sui social banalizzano eventi terribili del passato, mostrano assoluta indifferenza per violenze e stupri, anche nei confronti dei bambini piccolissimi.